Globalizzate la solidarietà combattendo la cultura dello scarto e inventando soluzioni concrete per far fronte all'aumento vertiginoso dei disoccupati, alle lacrime incessanti dei poveri. È l'invito che Papa Francesco ha rivolto ai membri della Confederazione Cooperative italiane ricevuti sabato 28 febbraio in Aula Paolo VI. Le cooperative sfidano tutto, anche che sfidano le matematiche, perché in cooperativa uno più uno è tre. In cooperativa un fallimento, in cooperativa è mezzo fallimento. 6.000 cooperative su 20.000 sono cooperative sociali. Oggi è emersa il fatto che bisognerebbe rispondere ai bisogni delle persone in maniera concreta. Noi vediamo che lo Stato non è più in grado di fare ciò. Dobbiamo affidarsi a una sussidiarietà intelligente e operativa. Mi sembra che la cooperazione molto concretamente sta facendo questo, perché libera la capacità organizzativa e l'inventiva dei singoli. A tutti i presenti, a corsi numerosi, in rappresentanza di molteplici settori, dall'agricoltura alla promozione dell'edilizia, dall'industria al consumo, il Pontefice ha voluto offrire alcuni incoraggiamenti concreti. Le cooperative infatti devono moltiplicare gli sforzi per sostenere anzitutto la parte più debole della società, i giovani pressoché depredati di speranza nell'orizzonte lavorativo, le donne che dovrebbero essere sempre più protagoniste sia nelle imprese sia nelle famiglie, così come pure gli anziani, i malati, le persone svantaggiate. È noto che un certo liberismo crede che sia necessario prima produrre ricchezza, e non importa come, per poi promuovere qualche politica redistributiva da parte dello Stato. Altri pensano che sia la stessa impressa a dover elargire le bricciole della ricchezza accumulata, assolvendo così alla propria cosiddetta responsabilità sociale. Si corre il rischio di illudersi di fare del bene, mentre purtroppo si continua soltanto a fare marketing senza uscire dal circuito fatale dell'egoismo delle persone e delle aziende. Chiano al centro e Deo di Nero. Mi sembra che stanno tentando delle proposte concrete. E la prima concretezza è spostare l'attenzione dal risultato alle persone. Quindi, il problema oggi è questo. Non si può massimizzare il profitto, per il profitto, ma c'è bisogno di sollevare una grande base sociale. Mi sembra che la cooperazione ha come oggetto proprio questo. Mettere al centro il socio o cooperatore, tentare delle risposte senza farsi prendere dalla mania dello spread. C'è una tirannia dello spread che credo debba essere correttamente superata. Per tendere una mano a quanti sembrano affogare nel mare insidioso dell'economia globale, Papa Bergoglio ha ricordato che è importante rimanere fedeli alla propria identità, mettendo il denaro a servizio della vita e perseguendo finalità trasparenti e limpide. Per questo vi dico che fate bene, e vi dico anche di farlo sempre più, a contrastare e combattere le false cooperative. Quelle che prostituiscono il proprio nome di cooperativa. Perché nel campo in cui operate, assumere una facciata onorata e perseguire invece finalità disonorevoli e immorali, spesso rivolti allo sfruttamento del lavoro, oppure alle manipolazioni del mercato e persino a scandalosi traffici di corruzione, è una vergognosa e gravissima menzogna che non si può assolutamente accettare. Lottate contro questo. Allora mi sembra che lui in certo qual modo anticipa le risposte possibili e sfida la cooperazione a trovare in maniera innovativa il modo di stare sul mercato, perché il mercato deve essere plurale, e di dare risposte che siano sostenibili. Davvero a me sembra che sia, questa è la grande sfida di oggi. Vorrei dire, la grande sfida non è fare soldi. La grande sfida è produrre e fare in modo che ciò che viene prodotto dall'uomo faccia bene all'uomo.